nella perdizione dell'ozio veduta a spiaggia quattro amici si va al mare le sciarpe comunicano c'è un po' di yoga eccolo qua ragazzo flegreo in posa sul golfo di Baia con relitto di nave quindi aveva anche uno sfondo storico ah interessante qual è il titolo? ammiravano i salari allora il titolo reca prospetto del fondo schiena dei titilli fregrei in case rurale nelle abbondanze che ci offre la nostra terra lo svegli a fa ahahah pifi ah guarda come sono bello mi guardo allo specchio questo è uno che sta facendo pifi no quest'altro se lo sta mantenendo aspettando il suo dubbio dall'antica Roma dall'antica Roma i titilli sono anche i patrizi dateci una mano al recupero delle ville e alla riassumazione dei relitti navali allora questa riassumazione di che cosa? dei relitti navali poi ci sono gli amici al bar no 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 scusami allora questi sono i corpi dei ragazzi flegrei sempre perché qui con vista museo archeologico beni culturali ingabbiati e incatenati guarda è lui ingabbiato ok eravamo 14 al bar che mantenevano cos'è tenuta di mazza tenuta della mazza che contemplavano la getta lo getto oooole oh guarda c'è un peluche un peluche che fa un pompino ahahah ortaggi freschissimi ahahah mantenuti in ambienti freschi diciamo così proprio ah ecco qua settembre eccolo qui vista di culi degli illigrei con scorcio panoramico lo scorcio panoramico l'hai ripreso? aspetta che sto facendo una panoramica lo scorcio panoramico ma soprattutto i culi vabbè però diciamolo che questo col bandana e Marco è festeggiato è festeggiato è festeggiato questo sono io guarda siamo ottobre ottobre ohlele ohlele ma cosa avrà mai qui va qua ha la faccia sua guarda lì è un po' cresciutello ho ancora un ristorante ho mangiato tanti OGM buona mi senti posso? novembre è novembre fa un po' freddo quindi stanno con i giubinielli è un pezzo trombettiere di Enea si 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 i giovani trombettieri flegrei un bacio 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 questo è talmente piccolo questo non riesce a me ecco qua ecco qua ecco qua nei campi flegrei madre natura da anche questi frutti sono cervi sono cervi andiamo avanti la chiusura ed ecco la chiusura ruspanti giovincelli flegrei Tobia Castaiola Carmine Castiglia Antonio Palumbo e Vittorio Matareti sono amici tuoi si vi conoscete quanti? mi piace sempre mi piace sempre